San Vito, o San Vito Martire, è venerato come uno dei santi ausiliatori nella tradizione cristiana. Nato intorno al 290 d.C. in Sicilia, San Vito è ricordato per la sua fede incrollabile e il coraggio che ha mostrato di fronte alle persecuzioni. San Vito era figlio di un pagano, Hailas, ma fu convertito al cristianesimo dalla sua nutrice crescenza e dal suo precettore modesto. Questa conversione avvenne all'età di sette anni, segno della sua precoce devozione. A causa della sua fede cristiana fu denunciato dal padre alle autorità romane. Tuttavia, Vito, Crescenzia e Modesto riuscirono a fuggire in Lucania, l'attuale Basilicata, per evitare la persecuzione. Durante la sua fuga, San Vito compì diversi miracoli, incluso guarire malati e sconfiggere spiriti maligni. La leggenda narra che guarì il figlio dell'imperatore Diocleziano da una grave malattia, ma fu comunque arrestato e martirizzato per la sua fede. San Vito, insieme a Crescenzia e Modesto, subì il martirio nel 303 d.C. nella Valle del Sele. Le loro reliquie furono poi trasportate a San Vito dei Normanni e in altre parti d'Europa, dove vennero venerate per i loro poteri miracolosi. San Vito è noto per aver operato guarigioni miracolose, inclusa la cura di malattie nervose ed epilettiche. Questo gli valse la venerazione come patrono contro i disturbi neurologici e le crisi epilettiche, conosciute anche come Corea di San Vito. È anche considerato protettore degli animali domestici e dei danzatori, grazie alla sua capacità di guarire la danza di San Vito o ballo di San Vito, movimenti involontari e spasmodici. Spesso nell'iconografia San Vito viene anche raffigurato in statue e dipinti come soldato romano, con la palma e la croce, simboli del martirio e con l'immancabile cane, a volte anche con due. Questo perché, secondo la tradizione, Diocleziano Gii mandò contro un cane arrabbiato, ma San Vito, quando lo ebbe davanti, lo guarì. Egli, pertanto, è invocato come protettore contro i morsi dei cani.